Purtroppo ancora una tragedia sul lavoro, ancora morti sul lavoro, ancora quello che ormai tutta l'Italia definisce inaccettabile, cioè morire per andare a lavorare, per procurarsi il pane, come si diceva una volta. Tre morti sul lavoro e in un luogo che purtroppo aveva già vissuto un momento analogo, cioè la Sabino Esplodenti di Casal Bordino, è un'azienda che si occupa del recupero della polvere pirica, delle polveri da sparo recuperate dalle bonifiche degli ordigni bellici. Dunque non un'azienda di fuochi d'artificio in questo caso, ma un'azienda che tratta appunto questi materiali e che già aveva avuto problemi nel 2020 con tre vittime e con la chiusura per diversi mesi. A raccontarci cosa è accaduto oggi a Casal Bordino, poco dopo, anzi poco prima dell'ora di pranzo, è il nostro inviato Paolo Durante che vediamo inquadrato ed è in diretta. Buonasera Paolo. Buonasera, buonasera Marina, da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli che ha inquadrato poco fa proprio l'auto dell'azienda funeraria che probabilmente andrà su tra poco a recuperare i corpi straziati dei tre operai. L'esplosione terribile alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino è avvenuta poco prima di mezzogiorno e mezza. Le vittime accertate sono tre operai. Si tratta di Giulio Romano, 56 anni, di Casal Bordino, Fernando Dinella, 50 anni, di Lanciano e Gianluca De Santis, 40 anni, Molisano, di Palata, una piccola città, un piccolo centro in provincia di Campobasso. Al momento non ci sono stati feriti da quanto si è appreso, anche se qualche collega degli operai morti, delle vittime, si sono sentiti male e c'è stato bisogno dell'ambulanza. La zona al momento, come potete vedere anche dalle immagini di Diego Martelli, è stata subito chiusa e presidiata dalle forze dell'ordine. Sono saliti qualche ora fa gli artificieri proprio per i primi rilievi e alcune abitazioni sono state anche evacuate a scopo precauzionale. I sostituti della Procura di Vasto che si occuperanno del caso sono Silvia Dinunzio e Vincenzo Chirico. Al momento rimangono inspiegabili le cause che possono aver innescato la terribile tragedia. Brevemente la Sabino Esplodenti, Marina, forse l'hai ricordato anche tu, è un'azienda leader mondiale per il recupero e lo smaltimento di materiali provenienti da munizioni militari. Tra l'altro la tragedia di oggi purtroppo non è l'unica che ha colpito questa azienda, ma si tratta della quarta tragedia, tre con vittime ed una con due feriti gravi. L'ultimo precedente risale il 21 dicembre 2020, anche lì morirono tre operai. E per una amarissima coincidenza, proprio domani ci sarà l'udienza preliminare davanti al GUP dell'ultima tragedia avvenuta qui a Casalbordino. Ed ora vi faccio sentire un primo contributo. Abbiamo intervistato insieme agli altri colleghi, ne sono tanti convenuti qui a Casalbordino, ad un commosso sindaco, lui è appunto Filippo Marinucci. La linea può andare alla regia. Scusate l'emozione, ma è la seconda volta che capita questa roba nella nostra comunità. Tre anni fa abbiamo avuto l'incidente e dopo tre anni si ripete questo incidente. Prima cosa, il pensiero va alle comunità di Palata e di Lanciano. C'è un ennesimo incidente sul lavoro. È vero, è una fabbrica dove il lavoro, dove l'incidente è dietro l'angolo. Ma spezzare le vite, le vite spezzate da una giovane età e dopo tre anni ripetersi questa roba è una cosa che veramente mi lascia interdetto. Sindaco, una delle vittime era di Casalbordino, lo conosceva? Lo conoscevo benissimo. Ho parlato col fratello, mentre stavo tornando, a cui non ci sono parole per esprimere tutto ciò che possiamo una nostra comunità, tra l'altro dicevo proprio col fratello che ho parlato diverse volte con lui che lavorava in questa fabbrica da diversi anni e quindi parlavamo anche del lavoro che si fa in questa fabbrica. Questi lavoratori sono 70 famiglie, quindi a volte si chiude, si sono gli accertamenti, ma sono 70 famiglie. Quindi ho chiesto a loro di provvedere a far sì che, se come l'altra volta il magistrato, giustamente, per procedere a tutte le indagini, quindi avrà un tempo lungo, che queste famiglie che rimangono, spero, io spero di no, ma di fare in modo di stare vicino a queste famiglie che... Ammortizzatori sociali. Ammortizzatori sociali. Dopo che finiscono le ammortizzazioni sociali, come è successo l'altra volta, perché sappiamo che l'altra volta è durato molto a lungo e quindi provvedere anche a livello di regione e anche di Stato per questo discorso di questi incidenti. Bisogna lavorare in sicurezza. Chiudere non è una parola, non si risolve il problema, perché bisogna far sì e io ripeto, l'ho detto tre anni fa e lo ripeto adesso, io questa fabbrica la conosco, bene o male, conosco le procedure, conosco che è super attenzionata, perché capite bene che lavorare in quella fabbrica bisogna avere tutte le sicurezze possibili, se no oggi come oggi, nel 2023, non potrebbe essere aperta una fabbrica di questo genere. Ripeto, in Italia ne esistono due che fanno questo tipo di trattamento, perché non parliamo di fuochi d'artificio, parliamo di qualcosa di più grande. Ecco Paolo, dovremmo avere ancora in collegamento Paolo Durante, vediamo se è possibile. Paolo, il sindaco diceva che non è una fabbrica di fuochi d'artificio, si occupa di qualcosa di particolare, sono solo due al mondo ed è una fabbrica attenzionata, non soltanto per ciò di cui si occupa, ma anche soprattutto, purtroppo, per i precedenti incidenti. Ci sono stati tre morti nel 2020, c'è stata un'altra vittima anni prima. Circola qualcosa, si dice qualcosa da quelle parti, insomma c'è una spiegazione, anche se poi dalla fabbrica stessa hanno fatto sapere che non ci sono al momento spiegazioni plausibili per questo incidente e la causa dell'innesco è sconosciuta, non si riesce a capire. È un incidente che si è verificato nella normale fase di lavorazione e di munizionamento eseguito per conto dell'Agenzia Industrie Difesa e appunto si è verificato nonostante l'adozione di cautele e applicazioni più severe previste dalla normativa. Lì è trappelato qualcos'altro o no? Poi andiamo ai commenti. Allora, sulle cause dell'incidente, naturalmente prima, come ho ricordato, sono saliti gli artificieri, però insomma adesso è prematuro e troppo presto per sapere l'innesco tragico quale sia stato. Abbiamo provato naturalmente anche insieme ad altri colleghi a cercare di stimolare con qualche domanda sia agli artificieri ma anche ai vigili del fuoco che sono convenuti insieme alle altre forze dell'ordine qui, però insomma non c'è il massimo riservo. Anche qui ci sono stati, c'è una lunga processione di parenti ovviamente e anche di colleghi dei tre operai morti, anche perché in questa fabbrica, la Sabina Esplodenti, lavorano a pieno organico circa 70 persone, però nessuno ovviamente, visto la delicatezza del momento, si è sentito di rilasciare una dichiarazione. Te ne farò sentire una invece di dichiarazione. È intervenuto qualche ora fa, è passato di qui Emilio Di Cola, è un sindacalista della Filctem CGL, anche lui con le lacrime agli occhi perché purtroppo bisogna testimoniare l'ennesimo incidente sul lavoro e come ricordavo prima si tratta del quarto della quarta tragedia che è avvenuta negli ultimi 30 anni qui alla Sabino Esplodenti. Allora io direi che con questo contributo da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli è davvero tutto. Una buona serata a tutti voi.